Secondo turno casalingo consecutivo domenica per l'AMMBC Servizi dopo l'infrasettimanale di mercoledì scorso contro Castelfiorentino. Domenica 5 novembre alle 18 al Palace Portestra arriva la Patrie San Mignato. Anche San Mignato ha vinto l'ultima partita superando in casa Sestri dando così continuità al successo del turno precedente sul campo di Castelfiorentino. Guidate in panchina dall'ex Pontedera Martelloni, i pisani hanno in bella chioma il principale riferimento offensivo capace di mettere a referto ben 16 punti a partita. La Patrie può contare su altri quattro giocatori, Giovani Cilovato, Menconi e Cravero, che stanno viaggiando oltre la doppia cifra di realizzazione a testimonianza della pericolosità offensiva di una delle squadre più giovani dell'intero girone di Serie B e che in classifica segue di soli due punti la capolista solitaria Empoli. Servirà un'ame in bc servizi con lo spirito battagliero e con una ricarica di energia per poter impensierire il quintetto avversario e provare per la prima volta in stagione a prendersi due vittorie consecutive. Per tutti gli sportivi e a Maranto l'appuntamento è per domenica al Palace Portestra con Palla 2 programmata per le 18.